Ciao, sono Chiara di T2E, Trasferimento Tecnologico Innovazione. Sono qua perché ci tengo a presentarvi un'iniziativa formativa molto interessante. Si tratta di un percorso ampio di 176 ore d'aula e 480 di tirocinio. Nelle ore di aula abbiamo anche le ore d'inglese. Il titolo è Digital Strategic Planner. Stiamo quindi parlando di una figura professionale molto interessante, nuova, abbastanza nuova, nel senso che con i cambiamenti delle nuove aziende è un po' di anni che le aziende la stanno cercando, ma non è facile trovarla. È una figura che aiuta il management dell'azienda a gestire la presenza aziendale in rete. Quindi parliamo di web marketing e di digital marketing. L'iniziativa è riservata a ragazzi e ragazze laureate, qualsiasi percorso di laurea, iscritte a garanzia giovani, quindi che non stanno studiando o non stanno lavorando. E bisogna essere under 30. Quindi iniziativa garanzia giovani per laureati. Il percorso si tiene qui in Camera di Commercio a Verona, Corso Porta Nuova 96, presso la nostra sede veronese. E prevede uno stage di 480 ore presso aziende che vi stanno già aspettando. Sono aziende di Verona e provincia. Bene, aspettiamo ragazzi e ragazze motivati al percorso. E attenzione perché le iscrizioni si possono effettuare solo fino al 4 di aprile. Maggiori informazioni li trovate sul nostro sito www.veronainnovazione.it E al telefono, chiamateci tranquillamente così ci confrontiamo, 045 87 66 940. Ciao a tutti, a presto! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!